Sono tre i nuovi casi di positività registrati nella giornata odierna in Abruzzo e che fanno salire il computo complessivo dall'inizio dell'emergenza a 3.331 casi positivi al covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'istituto zooprofilattico di Teramo, dall'università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Buona notizia invece è l'assenza di nuovi decessi che rimangono fermi a 467. 17 pazienti, meno due rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, zero numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 107 più 5 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2740 sono i dimessi e i guariti, numero invariato rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 2728 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Attualmente i positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 124 con un aumento di tre unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 116.253 test. Del totale dei casi positivi 240 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1599 in provincia di Pescara, più 1 rispetto a ieri, 635 in provincia di Teramo, più 2 rispetto a ieri, 26 fuori regione, mentre per 4 casi non è indicata la provenienza.